riposiamo un po' che è che scrive qua ma tra poco ci serve più molto bene con Filippo doni un bacio con Filippo riuniti apriti 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 guarda che bella questa cioè questa è una pianta pazzesca sai che pianta è la pianta dei danè si più diventa grande quella pianta pare leggenda e più soldi si guadagnano vuol dire che siamo ritti siamo benissimo adesso stiamo benissimo ci siamo ma abbiamo un attimo riordinato le idee io sto bene tu stai bene io sto bene era un attimo di riflessione oh ma si è abbronzato un po' si è abbronzato si poi io solo l'ho preso che bello che sei canale grazie per la visione grazie per la visione grazie 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 a tutti.